sono tanti e hanno tutti lo stesso obiettivo vogliono esserci dovranno superare prove difficili provare emozioni forti avranno bisogno di armi speciali ma sono coraggiosi e non vedono l'ora di partire un bambino malato è un eroe regalagli una settimana al dinamo camp dona 2 euro al 45 506 dal 19 marzo all'8 aprile la sua avventura inizia con te